Ciao, io sono Inarteluke, recensione film Ray Charles del 2004. Jamie Foxx che interpreta Ray Charles è fantastico, veramente, veramente fantastico. L'ambientazione è stupenda, la storia di Ray Charles vale la pena vederla perché è molto toccante, ma è molto oscura, passatemi il termine. E' stato doppiato in italiano da Pino Insegno che presta la voce a Jamie Foxx e a Ray Charles insieme in una maniera strepitosa. Ha vinto anche un Oscar per una miglior canzone, se non ricordo male, e vale la pena vederlo, davvero, davvero bello. Grande storia rock in Arteluke.